Si è verificato nella scorsa notte al comune di Eboli un furto all'ufficio anagrafe. Sembra che i gnoti, senza lasciare nessun segno di effrazione, abbiano portato via circa 4.000 euro, ma anche un migliaio di carte di identità. Sono state avvisate immediatamente alle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, con l'ausilio della scientifica che stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere presenti nei locali per cercare di individuare gli autori del furto.